Il clima è particolarmente teso, neanche l'imminenza dell'appuntamento di campionato ha stemperato gli animi. Le scritte comparse sui muri del Franco Scoglio nelle ultime ore, dai toni e linguaggi forti, in alcuni casi inaccettabili, con cui la proprietà viene esortata a passare la mano, sono il termometro della frattura ormai conclamata con la città. Dopo i 90 minuti di proficuo faccia a faccia tra i leader storici del tifo organizzato per l'Uritana e Franco Proto, nel corso del quale hanno accertato che esiste ancora la disponibilità dell'imprenditore di Troina a intestarsi il delicato compito di risanare il club e rilanciarlo, gli ultra scalpitano in vista dell'agoniato incontro con i soci nel corso del quale proveranno a convincerli a cedere, visti tanti nodi risolti, le clamorose ingenuità tecniche e organizzative e la delicata situazione finanziaria o contabile che mette a rischio il futuro del club. Una moral suasion, quella che intendono esercitare il capi club, che sarà interessante capire che tipo di impatto avrà sugli attuali soci che nonostante l'isolamento nel quale si trovano ad operare potrebbero decidere comunque di andare avanti. Per comprendere quali potranno essere le dinamiche occorrerà attendere l'inizio della prossima settimana. Il presidente Stracuzzi è rientrato ieri sera dal suo viaggio di lavoro. Lunedì il confronto con i supporter che ieri hanno preso atto delle condizioni poste da Proto per l'acquisizione del club ritenuto ormai unica soluzione per uscire dal tunnel. La trasmissione di tutta la documentazione contabile e amministrativa mai trasmessa ai consulenti dell'ex vicepresidente di Lega e la permanenza sulla panchina giallorossa di Sassammarra, considerato da Proto uno dei pochi punti di forza del gruppo di lavoro giallorosso. Grazie. 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 Grazie.